Chiamiamo il Vice Presidente del Collegio Regionale Veneto Stocco, Gianfranco, e per lo stesso motivo il Presidente, essendo candidato, non saluta. Prego. Non Vincenzo, Gianfranco. Beh, eccomi qua. La sorpresa che Paolo mi ha fatto è che ovviamente per una questione, come ha già spiegato, dei candidati, toccarmi a quest'onere, anzi a quest'onore voglio dire, perché comunque è un piacere salutare tutti voi, ringraziamenti ne sono stati fatti tanti, aggiungo anche i miei, a tutti coloro che hanno permesso questa bellissima sede e ovviamente tutto quello che c'è stato dietro, di solito chi lavora tanto facciamo faticare a vederlo. Che altro dire? Semplicemente una riflessione, è un momento importante per la nostra categoria, è un passaggio sul quale, ecco, molti si pongono dei dubbi o delle cose. Io credo che riuscire a essere presenti, e con questo voglio dire essere qui, con la mente e con il corpo, ascoltare con empatia quello che i candidati vorranno comunicare e con grande responsabilità prendere poi la decisione su chi vorremmo sostenere, su chi vorremmo far andare avanti. Ma senza dimenticare però che una volta che abbiamo spinto quel bottone, non finisce lì il nostro ruolo. dovremmo sostenere i nostri candidati, dovremmo farlo con la buona fede, quello che per FIAIP e per me è sempre stato un riferimento. Essere di sostegno vuol dire non abbandonare le persone a se stesse, vuol dire stare vicino a loro, fornendo, se è possibile, dei consigli, dei supporti. Prego ai candidati di lasciare, come dice qualche formatore, la giacca dell'ego fuori da questa porta. Qui c'è bisogno di fare delle cose per le quali sappiamo che poi ci torneranno indietro. Non dobbiamo dimenticare che ogni cosa che noi seminiamo, prima o poi, la raccogliamo. Quindi abbiamo cura del nostro seme, abbiamo cura di far crescere la pianta e continuiamo a sostenere questa grande federazione. Grazie a tutti voi. Grazie Gianfranco.